L'anno santo sia per tutti un anno di purificazione e di santificazione, di vita interna e di riparazione, l'anno del gran ritorno e del gran perdono. Dà, oh Signore, la pace ai nostri giorni, pace alle anime, pace alle famiglie, pace alla patria, pace alle nazioni. La vigilia del Natale 49 è rimasta nei cuori attuale come in queste immagini che la conservano in un presente inalterabile. Il Papa vibra il primo dei tre colpi col martello di avorio e d'argento. Simultaneamente a San Giovanni Laterano, come nelle altre due basiliche apostoliche, i cardinali legati chiedono, abbassando i loro martelli, aperite michi portasi justizie. Le porte si reclinano sui loro cardini, le vie delle indulgenze sono spianate, veramente secondo il detto evangelico, battete e vi sarà aperto. Aprite le porte perché Dio è con noi, ha esclamato Pio XII, e ora col cero e la croce astata entra nel tempio primo dei pellegrini. Di qui comincia la vostra storia, pellegrini d'Italia e del mondo. È durata un anno perché ciascuno potesse portarsi a casa il gran perdono. La primavera impregna di sole l'obelisco. È venuto con la primavera il grande afflusso dei pellegrini. Questa è la Pasqua del Giubileo. Il Papa la ricorderà tra le grandi date dell'anno santo nel suo messaggio ai fedeli prima di chiudere le porte. La seconda data è il Corpus Domini. Da Orvieto si è mosso per la prima volta in sette secoli il corporale. Pio XII lo accompagna, inginocchiato sul talamo, nella processione che per due ore sfila lungo il colonnato. Da una finestra del Vaticano Assunta Goretti vede avanzare lo stendardo della figlia elevata alla gloria degli altari. È la terza delle date rammentate dal pontificio. Ma ci furono gli altri 365 giorni dell'anno. In uno di quei giorni giunse da Castel Gandolfo un Romeo battezzato Eugenio Pacelli. Il successore di Pietro lucrava il Giubileo. Tre milioni di pellegrini, 6.000 a piedi, 4.000 in bicicletta e questo con la botte che gli serve da casa. Un altro ha combinato il podismo con le ruote. Dal convento di Etel, in Baviera, la contessa Elena di Ohenau ha percorso 1.500 chilometri in groppa la bella Gisella, la sua cavallina araba di quattro anni. Ha trovato gambe per arrivare, gambe per pedalare sulla bicicletta regalata gli da Olmo, Domenico Quattrini, che ha lasciate le sue sul fronte greco. È arrivato da Genova, ma tutte le gambe conducono a Roma quando si sa perché si cammina. Nessuna distanza ha scoraggiato i romei. Questi venivano dalla Nigeria, dal Togo, dal Camerun, con un vescovo e un re. E 400 scouts hanno portato fino a San Pietro, sulle loro cornamuse, gli ecchi dei monti scozzesi. Hanno salito i gradini della Basilica, le Mondariso di 18 province. Ha percorso la via della conciliazione, Coblet, con Bartali e gli altri reduci del Giro di Francia. Raccolgono le ultime ovazioni per deporle ai piedi del Pontificio. Poi la via si è riempita dell'immenso corale di 10.000 motori. Cominciamo a domandarci con quali mezzi si pellegrirà nei futuri giubilei. L'elicottero ha prevenuto la domanda. L'ultima data. 300.000 pellegrini per la proclamazione del dogma dell'Assunta. Nell'anno delle indulgenze, i cattolici che ogni giorno chiedono l'intercessione di Maria con l'ora pronobis dell'Ave, hanno sentito definire dalla cattedra che Maria, che è la madre, è stata immune dagli squallori del sepolcro. Scoccano le ultime ore dell'anno santo. Tornano i rappresentanti di Roma, il sindaco e l'assessore Andreoli, il gran maestro dell'ordine di Malta, il principe Chigi, l'ingegner Galeazzi e molti dei personaggi che nel precedente Natale erano qui per l'apertura delle porte. Anche stavolta il corteo degli arcivescovi e dei vescovi in mitra e piviale bianco. Poi, sulla sedia gestatoria, il Papa, che nell'aula dei paramenti ha indossato la falda e la mito, il formale e la mitra d'oro. Giunto alla statua di Costantino era previsto che egli entrasse nell'atrio. I pellegrini l'hanno visto invece volgersi verso la piazza. Non tutti hanno trovato posto nella basilica e nell'atrio. E anche a questi, Pio XII ha voluto che giungesse quest'ultima benedizione del giubileo. sotto l'atrio è alzato il trono. La cerimonia dell'anno precedente sembra ripetersi, ma cambiando il segno che era l'ora di giubilante attesa in un segno di mistica nostalgia. Il pontefice scende dalla sedia. Nella mano sinistra avvolta in un velo di seta tiene il cero offertogli dal primo diacono, il cardinal Canale. Sul suo volto è un sorriso, un invito alle anime cristiane. Stanno per chiudersi le porte dell'indulgenza. rimangono aperti i varchi della speranza. E ancora una volta il sommo vicario transita attraverso le soglie che egli per primo ha oltrepassato nel giorno che spalancò le porte del regno. Raggiunge, sotto le navate della basilica, un'altra gestatoria. Sullo schienale di veluto viola antico, questa mostra tra punto in viola e azzurro lo stemma di Pio IX. Dopo ricevuto l'obbedienza, il Papa andrà all'altare della confessione, si chinerà sul faldistoro, venererà le reliquie della Santa Lancia, del legno della croce e del volto santo. Poi, dall'altare del Santissimo Sacramento dove avrà adorato l'ostia, di nuovo a piedi, lieve e grave sulle scarpe di veluto rosso, raggiungerà la porta santa che ora barca ultimo dei Romei, lui, il depositario delle sacre chiavi. San Giovanni in Laterano, al cardinale Micara che fu legato per l'apertura compete il rito della chiusura. Su un tavolo, ricoperto di lino, lo aspettano i bacili della calce, la cazzuola, benedice mattoni e calce. Noi seguiremo la cerimonia raggiungendola via via nelle altre basiliche apostoliche. La formula della benedizione, quale la ripeteranno a Santa Maria Maggiore il Cardinale Verde e a San Paolo il Cardinale Tisserand, dice Signore e Dio che custodisci le cose somme, le medie e le infime e accogli ogni creatura con intimo abbraccio, santifica e benedici queste creature, le pietre, la calce, la sabbia. Si aspergono di acqua santa, poi si incenseranno il materiale e gli arnesi. Tre matoni dorati formano la base della muratura. Un telaio chiude ogni porta santa. In giornata, i muratori compiranno l'opera. Anche il Papa ha deposto la mitra per leggere la benedizione. Poi, terminato l'Oremus, consegnerà il cero al secondo cardinale di Acono. Ripresa la mitra, cinto di un grembiule bianco, riceve dal penitenziere maggiore la cazzuola d'oro. Collocherà sulla soglia e i suoi tre mattoni pronunciando le parole «Poniamo questa prima pietra per chiudere questa porta santa che dovrà aprirsi in ciascun anno giubilare. Torna sul trono dove prega il Dio che la santità di questo luogo resti inviolata, sì che tutti i fedeli si rallegrino di avere impetrato in quest'anno giubilare i benefici del suo dono». Chiusa la porta, ma non è chiusa la straordinaria indulgenza che la Costituzione per annum santum estende a tutto l'orbe cattolico per l'intero 51. Chiusa la porta, i tre colpi che tra 25 anni la riapriranno risuonino entro un mondo in pace. E così si.